Non ce ne sono male, ma con i piedi Quanto c'hai? Sento 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 E' arrivata Dai, no, no, no Niente, sapete che facete? Io non so che faccio Mi fa sapere che vado fuori Quindi dai, facciamoci e vediamo domani Grappa Grappetto No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 1-13, Frank, 1-2-13, vogliamo. Mamma mia! Dietro, dietro! Grazie! Buon tiro! Oh, vedete! La mente è assunta che non lascia... Oh, vedete! Com'è, no? Qualcino d'accordo? Glielo! 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 Due, tu sei andato in una scarpa, adesso ti ha straghiato, l'alloreggio è lei stessa! E' piano! E' piano! E' pareggio! E' un po' di fuggito! E' un po' di fuggito! E' un po' di fuggito! Ehi! 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 Piazza, dai! Ehi! 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 No, apprendete! Ehi! Anche, anche! Stiamo per fuori, sono state dietro! Copriate le casanze! Non c'è io! Non c'è io! Ehi! Non ce n'è io! Oh! Oh! Era parata! EncienHAM- Ehi! Toilene! Ehi! janja mate! Concep 하고 get�, poi è come cotto, è come un tiro!